Alcuni li chiamano i gelè azzurri in paragone con il movimento di protesta sorto in Francia. Sono gli esponenti di Forza Italia che in occasione dei 25 anni del partito di centrodestra fondato da Silvio Berlusconi hanno illustrato oggi le proposte di governo che verranno poi fornite nel dettaglio alla cittadinanza nella giornata di domani con dei banchetti dedicati. I moderati affrontano in particolare il tema del lavoro, delle tasse, della legge elettorale ma anche l'approccio politico degli azzurri senza urle plateali scene di dissenso in posizione in aula o nelle piazze. Questo centrodestra moderato, questa esperienza straordinaria 25 anni insieme al presidente Berlusconi che ci ha insegnato, ci ha insegnato la cultura di governo, ci ha insegnato ad essere pragmatici, ad essere propositivi, ad essere gente di proposta e cerca soluzioni fattibili e non soluzioni urlate come ultimamente abbiamo avuto modo di vedere. Questo ringraziamento che tutto il partito vuole fare al presidente Berlusconi, a tutti i componenti del partito, i simpatizzanti, a tutti i milioni di elettori che il presidente ha con lui. Lo vogliamo ringraziare e vogliamo partire per una nuova avventura che è quella delle elezioni europee con la sua candidatura, grande segno di lealtà, di generosità che il presidente fa nei confronti dei suoi elettori. Si apre quindi un capitolo che riguarda le alleanze, in comune e in regione Forza Italia e all'interno della coalizione di centrodestra. Al governo però i giochi sono diversi. Tutto sommato a parte piccole divergenze, piccole differenze, problemi non ce ne sono, anche perché indubbiamente in Friuli Venezia Giulia la Lega è alleata con il centrodestra, è alleata con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, l'alleanza che non è naturale, che non è normale è quella che invece la Lega ha a Roma con il Movimento 5 Stelle, quindi qua sta la differenza. Banchetti domani mattina in largo Don Bonifacio dalle 10 e mezzogiorno.